A tutti gli amici di Liveboat, sono il comandante Mario Siffa, il comandante dell'MSC Divina, l'ultima nuova arrivata della flotta MSC Crociere, vi aspetto tutti a bordo per passare un po' qualche giorno in spese diatezza e in allegria e ne approfitto di nuovo per salutarvi e vi abbraccio tutti qua, un bacio e un abbraccio particolare.